Musica Benvenuti ad una nuova edizione flash del telegiornale di Casale Monferrato. Sono 142 nuovi contagiati di coronavirus in Italia in aumento rispetto ai 126 del giorno precedente. Di questi 62 sono in Lombardia, pari al 43,6%. Ma salgono anche i tamponi, ne sono stati fatti 48.273 nelle ultime 24 ore. 7 le regioni senza nuovi casi, in aumento anche le vittime 23, 4 delle quali in Lombardia dopo le precedenti 6 in tutta Italia. 11 le regioni a 0 morti. I guariti dal Covid-19 in Italia superano quota 190.000. L'aumento nelle ultime 24 ore è di 1.052 unità. Diminuiscono di 3 i pazienti in terapia intensiva, sono 93, 42 dei quali in Lombardia. In 11 regioni e nella provincia autonoma di Trento non ci sono più ricoverati in rianimazione. I ricoverati con sintomi sono 1.090, 30 in meno, 14.380 le persone in isolamento domiciliare, 900 in meno. 933 in meno gli attualmente positivi. Nessuna vittima e nessun nuovo contagio in provincia di Alessandria, ma solo, si fa per dire, due guariti che portano il numero totale sul nostro territorio a 2.950. 3 i decessi di persone positive al test in Piemonte e 11 nuovi casi in più, di cui 10 asintomatici. Degli 11 casi, 6 provengono da screening, 4 da contatti di caso e 1 con indagine in corso. Salgono di 1 in più i pazienti in terapia intensiva, mentre quelli virologicamente guariti sono 24.624, 50 in più in 24 ore. Incidente mortale a Rocca delle Donne, frazione di Camino, dove un'automobile è uscita di strada senza coinvolgere altri mezzi. La vittima, un pensionato a 73enne, è morto sul colpo. Sul posto è intervenuto l'elissoccorso del 118 insieme ai vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Pontestura. Un malore potrebbe essere alla base della tragedia. È stato prorogato alle 12 di venerdì 31 luglio il termine per la presentazione delle domande per il bonus facciate comunale. Il bando consente a proprietari, titolari di contratto di locazione o condomini di avere 8 euro a metro quadrato di facciata recuperata fino a un massimo di 5.000 euro sullo stesso edificio e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il bonus comunale facciate è accumulabile con la detrazione fiscale del 90% prevista dall'ultima legge di bilancio statale, mentre non potrà essere erogato per chi si avvarrà del credito d'imposta del 110% inserito nell'ultimo decreto rilancio. Regolamento, bando, planimetrie, modelli di domanda e tutte le informazioni sul bonus sono reperibili sul sito del comune. È in programma lunedì 6 luglio alle 15 il secondo incontro organizzato dal gruppo di lavoro Economia del progetto Riparti Casale. Sarà la volta di Aldo Lombardo, segretario della Commissione regionale AB Piemonte, che tratterà il tema Quali risorse per la ripartenza. All'incontro che si svolgerà nella sala consigliare del municipio sono stati invitati i direttori degli istituti di credito di Casale. Chi fosse interessato potrà collegarsi alla pagina Facebook del comune. Continua con successo la rassegna casalese ESCO Estate a Corte, a inaugurare gli eventi d'inizio luglio due attese mostre d'arte. Timeless, proposta dall'associazione culturale Art Moleto e curata da Michel Old, ha come tematica centrale quella del tempo, inteso come moto indefesso del divenire. Sarà visitabile al secondo piano del castello del Monferrato. Contemporaneamente sarà allestito anche Dancing When the Stars Go Blue, un percorso costituito da dipinti e videoinstallazioni che hanno come denominatore comune il colore blu. Quattro artisti, esponenti di Art Moleto, hanno interpretato il valore simbolico di questo colore. La Manica Lunga ospiterà invece una personale di Marco Tulipani, che con la mostra dal titolo Esistenza Cielo, propone la storia artistica del maestro Pavese, esponente a pieno titolo del Metamorfismo. Le mostre saranno visitabili dal 4 al 26 luglio. Per accedere alle sale è obbligatorio indossare la mascherina ed è possibile prenotarsi ai numeri 0142 444329 o 0142 444330. Estate ricca di iniziative ed eventi anche per il Museo Civico e Gipsoteca Leonardo Bissolfi. Da sabato 4 luglio prenderà il via una serie di incontri e laboratori didattici che porteranno adulti e bambini alla scoperta delle collezioni. Il primo appuntamento è proprio per sabato 4 luglio alle 11 con un laboratorio dedicato ai bambini dal titolo Il Signor Bissolfi e la sua Gipsoteca, la tecnica, lo stile e la vita di un artista internazionale. È obbligatoria la prenotazione al numero 0142 444309 o tramite il form sul sito del comune. Poi dalle 21.30 di sabato, spazio alla musica, nel cortile del Castello del Monferrato suoneranno i Why Not Band, un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 21 anni con un repertorio che comprende pezzi rock e hair metal anni 70, 80, 90, ma anche i brani pop contemporaneo ed R&B per cercare di soddisfare la più vasta tipologia di pubblico. L'ingresso è gratuito. Domenica 5 luglio è sempre al Castello, alle 21.30 uno spassosissimo spettacolo teatrale a cura della compagnia teatrale fubinese. Stai sud addosso. Cabaret in musica con parodie e gag di Massimo Brusasco, Maurizio Ferrari, Katia Didio e Massimo Faletti. L'ingresso è gratuito. L'ingresso è gratuito. A tutti i collaboratori che con passione, professionalità e onestà ci sono stati vicino in questi anni. Accordo raggiunto dalla Novi Più Junior Basket Monferrato con l'atleta Daniel Donzelli che giocherà a Casale per le prossime due stagioni sportive. Ala di 2 metri, classe 1996, Donzelli si forma cestisticamente nei settori giovanili di Cremona e Casal Pusterlenco. L'ultima stagione lo ha visto protagonista in Piemonte con palla canestro Biella. Donzelli vanta un'esperienza di altissimo livello nelle nazionali giovanili. Ha raggiunto il quarto posto agli europei under 16 del 2012 e il quinto a quelli under 20 del 2016. Il risultato più importante è arrivato con l'under 18 nel 2014 quando ha vinto il prestigioso torneo Albert Schweitzer di Mannheim in Germania. Resterà legato a Casale con un accordo pluriennale Mattia Ferrari, coach di Novi Più Junior Basket Monferrato. Nato a Milano il 3 aprile del 1975 e nella stagione 1999-2000 è capo allenatore in Serie 2 femminile a Ravenna. Dal 2003 al 2006 allena la formazione di Piacenza mentre nella stagione 2006-2007 inizia la sua avventura in Serie B con il basket Saronno che continuerà dal 2008 al 2011 con il basket Cecina. Poi nel 2007-2008 si trasferisce alla Virtus Bologna in Serie A come secondo assistente. Dopo una breve parentesi con la benacquista latina dal 2013 al 2018 siede sulla panchina dei Legnano Knights che porterà dalla Serie B alla Serie A2 e a due terzi posti in classifica e ad altrettante qualificazioni alla Coppa Italia per approdare poi nel 2018 alla Junior Casale. Torno in acqua i ragazzi del Rainbow Team, la scuderia casalese di motonautica guidata da Fabrizio Bocca, ex campione mondiale di Formula 1 nel 1992 e Formula 3 nel 1983. Oleg Bocca, Ettore Bo, la New Entry, Clement Calondero e tutti gli altri piloti più giovani hanno ripreso gli allenamenti in vista della ripartenza delle gare nel campionato italiano di Formula Junior Elite. 4 le tappe in Calabria con la prima a fine luglio, inizio agosto ritardata a causa del coronavirus, poi seguiranno Brindisi a fine agosto, San Nazaro a settembre mentre il 3 e 4 ottobre si torna a Viverone.